E' uno degli ambienti principali che compongono l'abitacolo di un veicolo ricreazionale, nonché quell'elemento che determina in assoluto quell'autosufficienza da strutture ricettive esterne molto spesso ricercata. Parliamo del bagno. Numerose sono le varianti che si possono trovare nelle attuali produzioni, progettate e realizzate per cercare di offrire la migliore fruibilità in relazione allo spazio a disposizione, considerate le dimensioni del mezzo e il layout proposto. Oggigiorno una delle conformazioni sempre più diffuse è quella della toilette organizzata in due locali completamente indipendenti e collocati uno di fronte all'altro, generalmente con la possibilità di creare un ambiente passante per massimizzarne l'utilizzo. Ecco quindi un box doccia autonomo isolabile tramite porti metacrilato o una porta a seranda scorrevole, dotato di una colonna attrezzata e un punto d'arrazione a soffitto per lo smaltimento dei vapori, che può essere costituito da un oblò oppure da un piccolo funghetto. Lungo l'affiancata opposta si sviluppa invece locale bagno, generalmente redato completamente in legno, al cui interno trovano posto il WC, il mobile lavabo e gli armadietti destinati allo stivaggio, mentre la sua aerazione è affidata a un oblò tetto oppure a una piccola finestra apribile a compasso o ancora ad entrambi. Inoltre, la doppia possibilità di battuta della porta di questo vano consente di isolare la zona giorno e creare un'ampia anticamera, oltre a permettere di utilizzare con maggiore comodità le sue componenti, in quanto lo spazio interno locale toilette completamente chiuso è spesso molto sacrificato. A tal proposito esistono due differenti varianti. La prima prevede questa tipologia di bagno completamente integrata con la camera da letto, non separabile quindi in caso di utilizzo in conformazione passante. La seconda, invece, regala maggiore privacy e fruibilità d'utilizzo, grazie alla possibilità di separare anche la zona posteriore tramite porte scorrevoli, garantendo quindi l'accesso ai due locali direttamente dal corridoio centrale e creando, così, un ambiente completamente autonomo. Pensato invece per ricreare una piccola sala da bagno di impronta domestica anche in veicoli di dimensioni non particolarmente generose, è il bagno trasversale in coda che occupa, per l'appunto, la quasi totalità della parte posteriore dell'abitacolo. Ospita al suo interno un box doccia completamente separato da un lato e lavabo, WC e piccoli armadietti distribuiti nelle restanti parti del locale. Inoltre, spesso accoglie anche il principale armadio guardaroba del mezzo, che può essere addossato alla parete di coda e quindi posizionato al di sopra di un gavone garage, oppure posto lateralmente, a fianco di un gavone esterno sviluppato tutta altezza. Collocato sempre nella parte posteriore dell'abitacolo, è anche il locale bagno sviluppato in senso longitudinale, di solito a lato del classico letto matrimoniale alla francese. Due sono le varianti principali di questa tipologia. La prima prevede la collocazione del mobile lavabo e del WC con tazzo orientabile nella parte anteriore del vano, mentre, in fondo, spazio al box doccia completamente separato. La seconda, invece, dona una maggiore fruibilità all'ambiente e ai suoi elementi, collocando il lavandino sempre nella parte anteriore, mentre il WC, in questo caso con tazza fissa, trova posto nel fondo, lasciando così libera l'intera parte centrale per la creazione di un box doccia mediante l'utilizzo di porti metacrilato oppure tramite soluzione vario con pareti ruotabili. Ma non solo, esiste anche un'ulteriore elaborazione di questa tipologia di bagno di derivazione caravanistica, che colloca il mobile lavabo e i relativi armadietti pensati per lo stivaggio esternamente al vano, che, a sua volta, racchiude al suo interno il WC e la doccia. Restando sempre in tema di toalette sviluppate in un ambiente unico, ecco una delle più diffuse da sempre sui veicoli ricreazionali, quella cioè collocata nel mezzo dell'abitacolo. Numerose sono anche in questo caso le varianti adottate dai produttori. Si passa infatti da soluzioni più generose con box doccia completamente separato che occupa una porzione del vano, ad altre invece con doccia separabile mediante l'ausilio di porti metacrilato di vario genere, così da aumentare lo spazio a disposizione in ambienti più costretti. Questi ultimi casi sono spesso abbinati a lavandini ruotabili oppure traslabili, o ancora lavabili collocati all'interno della porzione dedicata ad ospitare la doccia stessa. Nei veicoli più compatti o laddove la distribuzione degli spazi interni al mezzo non consente ampi sviluppi alla toalette, ecco che molti costruttori adottano intelligenti soluzioni con moduli variabili, così da consentire un utilizzo piuttosto comodo di tutte le sue componenti. Soluzioni che contano quindi sulla presenza di una parete rotabile incernierata dove viene ancorato il mobile lavabo e la relativa specchiera, che, con la sua rotazione, consente la creazione di un box doccia separato, generalmente dotato di erogatore e colonna attrezzata dedicati. Non mancano poi locali bagno che contano sulla presenza di alcuni elementi a scomparsa per ottimizzare al meglio gli spazi interni disponibili e i movimenti degli occupanti. Ecco dunque l'adozione di lavandini incorporati nei mobiletti, apribili a ribalta o estraibili, o di vici posizionati su guide che ne consentono lo scorrimento al di sotto di mobili o letti, così da lasciare libero lo spazio necessario per l'utilizzo della doccia. Infine, ecco la soluzione per eccellenza che richiama un vero e proprio bagno casalingo, e per questo destinata a veicoli di prestigio e dalle dimensioni particolarmente generose. Identificata con l'appellativo Roundbud, occupa un'ampia porzione dell'abitacolo e, per la sua collocazione tra la zona giorno e quella notte, assume anche connotati di anticamera o dressing room.